Dopo la pausa estiva il dibattito in aula a Giulio Cesare sul bilancio di Roma Capitale è ricominciato ma a ritmo molto lento. Secondo l'opposizione in centro-sinistra la creazione della holding composta da tutte le municipalizzate è un progetto ormai messo da parte dalla maggioranza. Io ho delle perplessità enormi ma c'è anche un altro aspetto che è quello anche della nuova normativa che in qualche modo rivede anche le composizioni ma anche giuridicamente lo status della holding. Peraltro questa holding non serve neanche molto a diminuire i membri dei consigli di amministrazione delle società che entrano a far parte. Il problema è che chi governa questa città ancora non sa cosa farà da grande. Per il centro-destra però la holding non è affatto una vicenda archiviata anzi secondo il consigliere del PDL Federico Guidi presidente della commissione bilancio l'operazione porterà a benefici fiscali. Sarebbe un peccato perché ci sarebbe un risparmio di 20 milioni di euro che noi potremmo rimettere nella vita economica della città soldi importanti in special momento di crisi. Quindi mi auguro che l'opposizione anche su questo sia responsabile. La holding è una riforma importante a lungo attesa che ci permetterebbe di razionalizzare la complessa macchina amministrativa delle oltre 106 aziende capitoline. Quindi vuol dire dare più risposte ai cittadini in termini di efficienza dei servizi e risparmio dei costi. Perché ovviamente andando a creare un'unica società che coordina tutte le altre ovviamente andiamo a risparmiare parecchio in Auto Blue, in consigli di amministrazione e quant'altro. E in più come dicevo prima c'è il discorso del Consigliato Fiscale che è un risparmio immediato spendibile di soldi che rimettiamo nella vita della città. Ma è sul piano dei tagli alle politiche e sociali lamentati dai municipi che le opposizioni annunciano battaglia. Si parla di un taglio al suo sociale per 62 milioni in genere. Noi faremo una battaglia enorme in aula. Primo perché comunque bisogna partire da una priorità dei bisogni e bisogna assolutamente che le spese superfule che io ho sempre denunciato e voi siete anche testimoni, i balli, i grandi cantanti, le feste, per chi sta bene devono essere annullate perché costano. Secondo, il bisogno primario è da prendere in considerazione, sulla base di quello bisogna pianificare gli interventi ed i servizi. Per Guidi tuttavia la paura dei tagli è infondata. Non c'è nessun taglio al sociale, lo sforzo che abbiamo fatto è quello di non diminuire i servizi per i romani più deboli e più sfortunati. Anche lì bisogna efficientarli. Noi chiederemo a chi giustisce i servizi sociali di assicurare, efficientando meglio ovviamente il servizio stesso, più prestazione con gli stessi soldi dello scorso anno. Intanto nella corsa alla poltrona di sindaco si è aggiunto un nuovo nome. Il consigliere Fabrizio Santori si è candidato alle primarie del PDL in gara contro Gianni Alemanno. Il sindaco uscente ha commentato la notizia con un secco auguri.